Lui non lo sapeva che aveva questa ritrosia perché mi faceva sempre vedere serena, però poi quegli ultimi tre giorni per me erano, ero io una dead woman walking, una donna che era nel percorso alla morte e io avrei voluto morire insieme a lui. E lui mi ha detto, quando io gli ho detto, tu c'hai da fare, il Calibano deve andare avanti. Queste le parole di Mina Welby al teatro piccolo dello Scalo di Chieti per un incontro in cui si è parlato della sua storia e del suo amore con Pier Giorgio Welby, malato di distrofia muscolare e pioniere della battaglia sull'eutanasia. L'incontro è stato moderato da Riccardo Varveri, coordinatore della campagna per la legge sul fine vita in Abruzzo. Welby è stato un attivista, giornalista, politico, poeta e pittore impegnato per il riconoscimento legale del diritto al rifiuto dell'accanimento terapeutico in Italia e per il diritto all'eutanasia, nonché co-presidente dell'associazione Luca Coscioni. Divenne noto nel 2006, quando gravemente ammalato nei suoi scritti, chiese ripetutamente che venissero interrotte le cure che lo tenevano in vita. Eravamo così allineati tutti e due per la vita che lui non mi voleva sposare, anzitutto, ma poi gli ho detto, guarda, io non sposo la tua malattia, sposo te, ti amo e basta. Allora la scelta di sposarci non era difficile. Lui ha fatto uno sforzo, ci siamo sposati, abbiamo vissuto tanti anni insieme, quindi dal 1980, a gennaio, quando ci siamo sposati, fino al 2006. La cosa difficile invece, prosegue Mina Welby, era per me in quel 2006. Lasciarlo andare e ho capito, allora io devo cedere, devo essere a favore di quello che lui vuole. Intanto va avanti la raccolta firme sul fine vita. Con questa legge regionale noi cerchiamo di stabilire tempi certi all'interno di 20 giorni entro cui l'ASL deve dare risposta al paziente. Una volta che ha ricevuto la risposta, il paziente ha sette giorni per poter chiedere che il farmaco gli venga somministrato. E può rifiutare il trattamento in qualsiasi momento, anche nell'ultimo secondo prima dell'assunzione del farmaco stesso. Qual è stata l'ultima frase che gli ha detto? Poi mi ha dato soltanto ancora un sorriso, ha chiuso gli occhi quando il medico poi gli ha inietato l'anestesia. Lui si è addormentato immediatamente.